buongiorno sono la signora sodaro di termini meresa abito in via giuseppe navarra chiedo urgente bisogno d'aiuto in quanto dal 2007 abito in questa locazione e ogni mese ogni mese per mese si verifica che mi fuoriesce tutta la melma dai sanitari dal piatto doccia e mi va dappertutto ho chiamato varie volte ho gridato tante volte aiuto ma mai nessuno si è presentato noi in famiglia siamo quattro la cui ho una bambina di due anni che soffre di flussometria mai nessuno è venuto a venirmi aiutare ho contattato la sindaco personalmente mi ha bloccato le messaggi ho tutte le dimostrazioni tutte le prove tutto con tutto ma mai avere un risultato mai sempre mio marito ha fatto il suo dovere ma mai il comune io fino a oggi scusate io ho sempre pagato da quando mi ritrovo sta situazione proprio esasperata non ho più pagato perché voglio sistemata la situazione ho sempre pagato i lavori a spese mie mai chiesto un centesimo al comune con tutto ciò mi sbatterebbe portando la faccia signori miei io mi chiedo aiuto a risolvere sta situazione ho chiamato vari enti ho infatti sposto mai nessuna risposta da parte di alcuna voglio essere aiutata aiutatemi a risolvere sta situazione dopo ciò mi saluto grazie grazie